Flavio Vanetti, come nasce e quando l'idea di scrivere gli Ossola? L'idea nasce da Aldo, il terzo degli Ossola, il cestista, che però è stato anche un calciatore per un certo periodo della sua gioventù e anzi aveva rischiato di essere un calciatore, non un cestista, si convertì al basket quando si ammalò di tifo, crebbe di 5-6 cm e allora a quel punto la scelta fu automatica e inevitabile. Era da anni che lo chiedeva, lo diceva facciamo un libro su noi tre, su Franco, caduto su Perga, su mio fratello di mezzo Luigi che è stato suolto a calciatore e anche giocatore di basket d'alto livello e anche a questo punto su me stesso. Devo dire che ha avuto ragione perché sono tre storie bellissime, tre storie che mescolano lo sport con la vita e anche con a volte le tragedie che la vita può riservare, quella appunto di Franco credo che sia, che poi quella del grande Toro credo sia emblematica, però è anche una tragedia che ha costruito il mito di questa squadra che sicuramente sta di sopra di tutto, cioè è una dimensione quella del Torino che non può essere secondo me raggiunta da nessun'altra squadra proprio perché c'è questa epopea, questa epica di questa squadra invincibile che è stata sconfitta solo da questa grande disgrazia. Questa è la cravatta del grande Toro appartenuta a Franco Ossola, suo fratello, quindi direi di dare la parola ad Aldo e ce la racconta un po'. È una cosa che conservo, la metto in cassaforte, sono tutte le firme dei giocatori del grande Toro, però sono quelle originali, proprio quelle del 48. Franco Ossola, l'emozione questa volta di scrivere un libro di fatto autobiografico. Quando è arrivata la notizia che c'era la possibilità di comporre la vita di questi tre grandi atleti che molto hanno dato alla storia dello sport e questa famiglia unica credo in Italia, straordinaria, non mi sono certamente né spaventato né tirato indietro, anzi poter scrivere in modo anche intimo la storia di mio padre è stata una bella soddisfazione perché ho scritto tante volte di papà, però soprattutto dal punto di vista tecnico del gioco, della squadra, del suo inserimento nel grande Torino, questa volta la sua storia è la storia sua proprio, sua nel senso più pieno, di giocatore, di uomo, di padre, di marito, insomma una storia intima che mi ha emozionato perché sono anni che la rincorro in sostanza e finalmente l'ho rimessa insieme, spero bene. Va letto tutto d'un fiato tenendo conto che si viaggia un po' a compartimenti perché sono tre vite ben distinte, ciascuno con la propria epopea storica dietro, con i propri mondi, le proprie realtà, i propri affetti. La storia di mio padre parte da lontano, parte quando incomincia a diventare grande il grande Torino, le storie dei suoi fratelli sono più recenti quindi sono inserite in mondi e in situazioni diverse. Una cosa importante, il libro è ricchissimo di immagini e di fotografie che da sole fanno già un libro nel libro, molte anche inedite, mai viste. Grazie a tutti.